a questo partiti anche questi atleti in corsia 1 sta nuotando Baraldi, alla 2 Tugnoli alla 4 Zanardi alla 5 Soliman, alla 6 Cecere, alla 7 Milano intanto le partecipanti alla gara 4% pinne femmine e i partecipanti alla gara 4% pinne maschi stanno per partire in corsia 1 di Gesi, alla 2 Seminerio alla 4 Fontana, alla 5 Manga alla 6 Cristofale, alla 7 Cavino salgono sul block in corsia 1 Romano alla 2 Appressi alla 4 Lupi alla 5 Rota alla 6 Errani alla 7 Chiozzini alla 5 2 a a a a a a su blocchi gli ultimi frazionisti alla 1 Muzioli alla 2 Seminerio alla 4 Fumarola alla 5 Orlandini alla 6 Cadini alla 7 Lecce intanto fanno il loro ingresso le ragazze della seconda serie 4% pinne femmine 2.41.61 il risultato cronometrico ufficioso per gli atleti della corsia 4 nuoto Sud Modena Bruno Loschi Zanardi Fontana Luppi Fumarola Grazie